Giornata da incubo per molti passeggeri. Dovevano raggiungere Comiso, ma il volo ha riportato oltre 8 ore di ritardo all'atterraggio. È accaduto ieri giovedì 29 febbraio con il volo Roma Comiso XZ2115, con presanti disagi per i passeggeri della compagnia aerea Aero Italia. Questo è quanto riporta una nota di Italia Rimborso, che sottolinea come i passeggeri quindi sono stati costretti a trascorrere ore intera all'interno dell'aeroporto di Roma Fiumicino, venendo rinviato il proprio volo in partenza inizialmente alle 15.45 e atterrato solamente all'1.03. Un disservizio che ha portato non pochi disagi per i passeggeri desiderosi di raggiungere la città siciliana, che però, grazie all'assistenza gratuita di Italia Rimborso, possono ottenere 250 euro come compensazione pecuniaria. Sembra che il ritardo infatti sia dovuto a problematiche della compagnia aerea ed il team sostiene che ci possano essere gli estremi per l'applicazione del regolamento comunitario 261 del 2004. È possibile, conclude l'associazione, contattare direttamente Italia Rimborso segnalando il disservizio. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille.